Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio fatto per SVG per il telegiornale di La Sette di Mentana. La Lega di Matteo Salvini cede lo 0,9, scendendo dal 24,4 al 23,3. Il PD dopo l'elezione di Letta, un nuovo segretario guadagna l'1,6%. Si vede che gli elettori del PD sono contenti di un segretario che in un momento di emergenza come questo parla del voto ai sedicenni. Si vede che era proprio quello che cercavano. Quindi diciamo il PD al 19%, sale il Movimento 5 Stelle che cresce dello 0,5 e arriva al 17,5. Passo avanti anche per Fratelli d'Italia che arriva al 17,1. Forza Italia guadagna lo 0,2 e vale il 6,7%. Azione passa dal 3,2 al 3,4, azione di Carlo Calenda. Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.